alissa è l'ora della merenda andiamo a fare un picnic come piove sì è vero però un'idea lo facciamo dentro casa un picnic in casa tu aspetta qui che io organizzo una cosa poi ti chiamo va bene ok vieni con me chiudi gli occhi chiudi 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 agli occhi chiusi adesso aprili ok questa è la mia borsetta con dentro alcune cose per dopo ed eccoci qua io una fame tu hai fame anch'io guarda cosa preparato per la merenda eh sì so che sono i tuoi preferiti grazie chissà che troverò io di immagini e poi questo se dopo abbiamo ancora fame se no per domani vediamo io chi trovo ho trovato il pirata e tu un arrabbiato con la barba ok poi io uno felice che ride e poi tu mister dentoni guarda è vero però secondo me la barba va giù dai è vero ma gli possiamo formare le facce ma sai che non ci avevo mica fatto caso l'altra volta aspetta la vediamo io chi posso creare io posso creare o ecco qua uno con gli occhiali che ride oppure un pirata che ride e guarda invece che altro che forte io direi di iniziare a fare merenda perché ho fame io inizio da 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 io dal pirata buon appetito cin 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 ho anche sete però vuoi un po di succo d'arancia si cin 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 viva i picnic in casa il bello del picnic in casa è che non ci sono le formiche non ci sono le vespe e le cimici le cimici non c'è il sole che ti da fastidio la testa e soprattutto non c'è la pioggia quando piove quindi siamo proprio tranquille però è bello anche fuori dai che nella natura però quando fuori è brutto tempo mi faccio assaggiare ultimo grissino finito anch'io ok adesso mettiamo un po via il cibo adesso ti faccio vedere che cosa ho portato qui allora ho portato un gioco di carte che adesso ci giochiamo ma soprattutto una macchina fotografica perchè durante il picnic bisogna fare le foto dopo voglio vederla sei pronta? mh fatto vediamo cosa viene vediamo vediamo se viene guarda eh beh adesso ci vuole un po prima che arrivino bene tutti i colori tutti i colori allora nel frattempo ci facciamo una partita a carte sì ho vinto bravissima ehi vediamo se intanto la foto si è sviluppata sì guarda che buffa mi ha sviluppata solamente che c'era un po di flash e vabbè ma queste qui vengono così beh ragazzi noi adesso finiamo la nostra merenda però intanto vi salutiamo vi consigliamo di provare a fare il picnic in casa ciao ma via questo qui è il cestino dove ci portiamo tutti i Kiri Dippy eh ma lei è venuta a assaggiarne qualcuno ce li siamo mangiati tutti via mi dispiace sei arrivata tardi ali guarda cosa ho scaricato cosa? l'app di Kiri Dippy wow proviamola ok Grazie a tutti